Aspetta come 500, guardate se butto giù Tana. Dov'è Tana? Dove cazzo è Tana? Porco diaz, porco diaz Figa te la abbatto, Dio caro Fai questo? Fai questo? Abbattiamo Tana. Non so neanche se puoi abbatterla Tana Sicuramente non da sotto ma da sopra sì Muori che devo abbattere Tana, porco cazzo E muori pure tu? Affanculo, devo abbattere Tana, non rompermi i coglioni Niente, è impossibile raga dai È impossibile abbattere Tana È letteralmente impossibile abbattere Tana Macchine che arrivano, vai E in tutto questo dobbiamo fare ancora gente La gente non c'è un cazzo da fare, è tutta Tana, dai Non c'è, ma oggi andiamo a Tana, figa Porco diaz No, no, no Sai dire, puoi farcela Sai dire, puoi farcela 500 patate per abbattimento Tana del cazzo Dai, muori vaffanculo Grazie, so cacazzo Voi due, fuori dai coglioni Fuori uno, fuori due Ho due poppa, ho due poppa Andiamo avanti con l'abbattimento di Tana Sai dire, devi abbattere Tana E forse non te ne sei reso conto Ma non è neanche un medikit Mi stanno sparando Non si sa bene perché La tattica della benda in faccia Guardate che Scombina le scelte dell'avversario Non 500 patatine le voglio, raga Le voglio, le voglio, le voglio Perché non ho uno switch? Perché non ho un'arma Per switchare al pump? Esattamente che problemi ho? Se arriva uno, mi incula Allora, la cosa intelligente è Non tornare mai indietro Quindi lavora in orizzontale No, in verticale Non devi mai più tornare indietro È impossibile abbattere Tana, raga Che cosa hai fatto oggi in stream? Oh, ho picconato Quanto? Eh, sei ore Mi sta venendo il vomito 33 secondi a parte la zona Mi giuro, ragazzi È più difficile fare questo Che fare una work up C'è una colonna Hai dimenticato una colonna Stupido idiota Sì, vai Perdiamo tempo Vai, perdiamo tempo Ok? Ok, tutto libero qui God Avanti Dai, mi devi rompere il cazzo Dai, muori Vaffanculo Ma esattamente Quanto diamine cazzo è grande Questo posto No, raga È enorme È inabbattibile, raga È veramente inabbattibile Questo Penso che neanche con 6 medikit Potrei farcela Dai, medikit Dai, fatti sto medikit Dai, 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 dai Raga, vi giuro che Un impulso in orizzontale Non funziona come pensate voi Cioè funziona Ma ne rompi molti meno E perdi molto più tempo Dai, 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 dai Ma quanto manca Alla fine Sei più veloce tu Dai Ok, questa è la fine God I muri Non perdere tempo I muri Non i pavimenti Via gli angolini Questo non serve Non serve Non manca molto Devo fare una cosa Per quale cazzo di motivo Prendi queste bende Andiamo Dai, sa Sta veramente per venire giù Tana Che cazzo manca Oh, qua è scollegato Qua è collegato Qua è impossibile È impossibile La terra giù Scollegato Non capisco Non capisco La torre La torre Non capisco Non riesco a capire Dove è collegato C'è un javelin Ma posso usarlo? O crystal surge Forse qua Sopra cazzo No! Eeeesyyyyyyy Easyyyyyyyy Nice! Andiamo, andiamo, andiamo! Merda su, merda! Ok calma, 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 calma calma. Merda! Easy! vi giuro era veramente impossibile rompere tanatracotante